Destinazione mare, sei quello che conta e che vale Passerà però rimane solo un'ultima stagione Più un'ultima stagione, mentre suona la canzone Ti ho scritto per curare il tuo dolore Il tuo dolore, ti ho scritto per curare il mio dolore E bentornati all'appuntamento con il Tg Estate sul Reteotto Per tenervi informati sugli eventi che animeranno la nostra estate Noi quotidianamente vi daremo il calendario degli eventi che sono veramente imperdibili Partiamo anche quest'oggi dal comune di Montesilvano Giovedì 6 luglio al Teatro del Mare, i Lupi della Maiella e la Casa di Cristina in concerto Venerdì 7 luglio al Teatro del Mare, il concerto degli Audio 2 Sabato 8 luglio al Paladin Martin, il Mercatino dei Bambini E adesso andiamo invece al Porto Turistico Marina di Pescara Per l'ampio calendario di Estatica Venerdì 7 luglio e sabato 8 luglio, Fenomena Mediterranea Food, Fashion and Design Una manifestazione molto interessante dedicata all'imprenditoria femminile del mezzogiorno Una due giorni all'insegna delle eccellenze della enogastronomia, della moda e del design Che vede protagoniste le donne del Mediterraneo Grazie per essere stati insieme a noi Vi ricordo che per segnalarci i vostri eventi potete iscriverci a Tg Estate Chiocciola Rete8.it Una buona estate su Rete8 Destinazione mare Sei quello che conta e che vale Passerà però rimane solo un'ultima stagione Giro l'ultima stagione Mentre suona la canzone Ti ho scritto per curare il tuo dolore Il tuo dolore Ti ho scritto per curare il mio 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 dolore